La OMA è a rischio fallimento e con essa sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Mauro Angelucci, infatti, ex presidente di Confindustria Abruzzo e Camera di Commercio Chieti Pescara, in qualità di amministratore delegato della mastodontica azienda metalmeccanica, di cui è socio insieme al fratello Giovanni, già a luglio aveva chiesto il fallimento della holding, mossa obbligata, avevano dichiarato i suoi legali, per scongiurare la bancarotta. Ci sono oltre 300 lavoratori a rischio in tutta Italia, la metà si trovano in Abruzzo, in provincia di Pescara. Il 18 settembre era il termine ultimo per la OMA per presentare il piano concordatario, la procedura per tentare il risanamento dell'azienda. In realtà, anche se la situazione è difficile, avevamo delle speranze perché c'era anche un'azienda che aveva manifestato in maniera ufficiale il proprio interesse, invece al contrario poi succede che il 18 settembre la OMA non presenta il piano concordatario, l'azienda interessata si tira indietro e il giudice non può fare altro che fissare l'udienza per il 22 ottobre e noi sappiamo che in quella data il giudice quasi certamente dichiarerà il fallimento dell'azienda. La situazione è critica per i lavoratori, a cui fino all'ultimo era stata nascosta la gravità della situazione. I sindacati però non si arrendono e annunciano battaglia nelle sedi istituzionali. Per i lavoratori è stato un vulnino accessorino perché gli atteggiamenti sono stati errati. Fino alla settimana scorsa ai lavoratori gli si diceva che la situazione era sotto controllo, quando in realtà, come abbiamo visto anche dai servizi sui giornali, sulla stampa di ieri, la situazione è tutt'altro che rosa e disperata. Il prossimo passo sicuramente sarà quello di coinvolgere le istituzioni. Arriverà una richiesta di incontro alla Regione, coinvolgeremo la Regione. Se necessario cercheremo di arrivare al Ministero a Roma. Ci stiamo coordinando con i nostri colleghi che si trovano nelle altre regioni dove la OMA ha altre sedi e quindi stiamo cercando di fare gruppo per cercare di dare risposte a quest'ennesimo dramma.